Grazie mille, grazie a tutti e buon pomeriggio. Sono molto contento di essere qui con voi. L'idea iniziale non era quella di parlare di è sempre 25 aprile, poi spiegherò anche che cos'è è sempre 25 aprile, ma piuttosto di fare un ragionamento a tutto campo sulla fase che stiamo attraversando. Io resterei fermo a questo impianto, cioè vorrei ripercorrere assieme a voi i fatti più recenti di quest'ultimo anno e mezzo, diciamolo pure, per poi spiegare nell'ultima parte del discorso che farò perché è venuta fuori questa iniziativa, questo gruppo che inizialmente è nato su WhatsApp, adesso ha figliato un altro gruppo e una pagina Facebook e poi chissà che cos'altro figlierà, cercherò di spiegarlo più tardi. Però vorrei farlo appunto a partire dai fatti che stiamo vivendo e stiamo osservando. Non sono tempi belli, non sono tempi semplici e in questo momento, lo sapete, è inutile parlare di questo, ma avrete occasione di ascoltare altri che ne parleranno da questo palco. Il mondo sta attraversando crisi di ogni genere, due guerre dopo il Covid che è stato il disastro che sappiamo. Emergenze si sommano emergenze. L'Italia è al centro di queste emergenze, non fosse altro perché è il cuore di un'Europa che ha smarrito completamente se stessa e il senso che l'ha giustificata, che l'ha fatta nascere. L'Europa è stato un grande sogno dai tempi di Ventotene e di Rospinelli. Un'Europa federale, un'Europa che aveva soprattutto nella solidarietà tra i popoli uno dei suoi valori principali. Nel corso dei decenni ha fatto importanti passi avanti, non trascurabili passi avanti, ma di fronte alle crisi gravi della fase che stiamo attraversando sembra afona, incapace di esprimere non soltanto una posizione geostrategica ma anche i valori nei quali crede. L'Italia naturalmente fa parte del problema, possiamo dire esattamente così, non è la soluzione ma fa parte del problema. Non è l'unico paese nell'Unione Europea che in questa stagione ha creduto di poter risolvere problemi epocali, pensiamo solo alle migrazioni senza arrivare ancora alle guerre, tagliando i nodi invece di scioglierli e facendosi, per così dire, abbagliare dall'idea che ci si potesse salvare, e questo è proprio il termine, dalla cosiddetta sostituzione etnica o da fenomeni epocali come le grandi migrazioni, non costruendo ponti ma erigendo muri. Insieme a questo le destre che hanno fatto enormi passi avanti in Europa, ed è importante parlarne ora perché siamo alla vigilia di una tornata di elezioni europee altrettanto importanti, hanno aggiunto tutto il resto del loro armamentario ideologico, molto corrivo, molto semplice ma per alcuni aspetti terribile, perché appunto rifiuta l'idea della condivisione, della solidarietà. È l'Europa delle piccole patrie, ciascuna delle quali fa per sé, spesso anche contro le altre, perché poi è sempre lì che si finisce, quando ciascuno pensa di poter rappresentare da solo e di poter rispondere alla complessità dei problemi di oggi da solo, prima o poi cozza contro un altro che la pensa allo stesso modo e dunque nascono i conflitti e non è un caso. In Italia è arrivata al potere, quindi, un anno e mezzo fa, una destra che per decenni, dalla caduta del fascismo alla fine della guerra alla Costituzione Repubblicana, si era autorelegata fuori dall'arco costituzionale, per scelta. Oggi loro raccontano che sono state vittime di questa segregazione politico-culturale, in realtà non è così, lo hanno scelto, perché erano eredi diretti di una terribile dittatura che ha insanguinato questo Paese e non altri. Oggi sono arrivati al potere, quindi, con la stessa logica con la quale nel corso dei decenni hanno vissuto quelle fasi di esclusione dall'arco costituzionale, cioè con l'idea che avessero conquistato il potere, avessero occupato le case matte del potere e ora dovessero quindi vendicarsi con tutti coloro che dal dopoguerra in poi li avevano esclusi. La logica è la filosofia dell'underdog che Giorgia Meloni ha espresso fin dal giorno del suo discorso per la fiducia parlamentare a Camera e Senato nasce da qua. Io ero quella piccola, brutta, la svantaggiata. Io come tutti quelli che appartenevano alla forza politica alla quale io ero iscritta, fin da quando ero una giovane militante del fronte della gioventù e poi di azione giovani. Però noi ce l'abbiamo fatta. Noi, dal tempo in cui si diceva fascisti carogne tornate nelle fogne, siamo usciti e abbiamo preso il potere e quindi oggi consumiamo la nostra rivincita oppure la nostra vendetta. se noi rimettiamo assieme tutto quello che è accaduto da un anno e mezzo a questa parte abbiamo un quadro sufficientemente chiaro dello spirito pre-politico, perché questa è pre-politica che anima chi oggi governa questo paese, che è esattamente quello, la revanche. oggi ce l'ho fatta e tu la devi pagare. Insieme a questo cosa c'è? Una strategia rispetto al ventennio fascista, oggi si dice ma ancora con le vecchie categorie del fascismo e dell'antifascismo, sono cose vecchie, ormai consegnate per sempre alla storia. Purtroppo non è così, perché oggi il fascismo e l'antifascismo sono esattamente i due poli che rendono inconciliabile un'Italia che non abbia fatto i conti con la propria storia e con la propria memoria, a partire dal fascismo come male assoluto. Gianfranco Fini nel 94, allora leader di alleanza nazionale, i conti con la storia li fece. Al congresso di Fiuggi andò a Yad Vashem a Gerusalemme a visitare il museo della Shoah e all'uscita disse, una volta per tutte, il fascismo è stato il male assoluto. E da quel momento in poi, agli anniversari che hanno costellato la storia del nostro paese, lui sapeva da che parte stesse stare. Il 25 aprile era la festa della liberazione dal fascismo. Da allora, parlo del 94 e sono passati 30 anni esatti, noi abbiamo fatto passi indietro da questo punto di vista. E lo dico perché una delle ragioni che rendono oggi evidente quello che dicevo prima, cioè da un lato questo spirito di rivalza e dall'altro lato questa impossibilità di unificare il paese, nascono da là. Perché il paese si riunifica nel momento in cui governano gli eredi di quel ventennio, attraverso fasi successive, soltanto se ci si riconosce nella storia comune e condivisa. E la storia ha espresso un verdetto chiaro. Il fascismo è stata una dittatura, è stato sconfitto dalla resistenza, dalla lotta partigiana alla quale hanno partecipato e questo gli attuali esponenti della destra che governa non lo dicono mai, forze di ispirazione completamente diversa. La lotta partigiana non è stata soltanto una vicenda di comunisti rossi. Sulle montagne a combattere la dittatura c'erano i comunisti e i socialisti, i liberali e i popolari, i laici e i cattolici, gli azionisti, tutti hanno contribuito a liberare questo paese. Se non si parte da là tutto il resto non può marciare, la condivisione non ci può essere perché da quella lotta partigiana, dalla sconfitta del fascismo, dalla fine della guerra, è nata la nostra Costituzione Repubblicana, che è esattamente la casa di tutti gli italiani, di tutti gli italiani che hanno combattuto per la libertà e hanno costruito un corpo di valori e di ideali che garantiscono o dovrebbero garantire la convivenza civile di tutti, indipendentemente dal colore della pelle, dalla religione, dal ceto sociale. La Costituzione del 48 è la pietra angolare sulla quale abbiamo costruito la nostra democrazia, purtroppo largamente inattuata. E perché è importante quindi esigere la biura del fascismo? Perché attraverso la biura del fascismo si riconosce che la Costituzione Repubblicana è la casa di tutti noi, cosa che questa destra continua a non fare? È chiaro che non dicono come diceva Berlusconi, che peraltro ha governato 12 anni, non ce lo ricordiamo, non ce lo dimentichiamo ed è la svolta dalla quale tutto è cominciato. Berlusconi diceva ma questa Costituzione va rottamata perché è la Costituzione più sovietica che c'è in Europa, quanto di più sbagliato e manipolatorio si possa concepire. Oggi Giorgia Meloni e la sua maggioranza non dicono questo, non arrivano fin lì, però poiché non compiono la biura che abbiamo detto non riconoscono il valore fondativo e fondante della Costituzione, tant'è vero che la vogliono scardinare. Questo è il momento più critico che noi stiamo vivendo da questo punto di vista, non è la prima volta che chi governa cerca di riscrivere le regole della Costituzione che come sapete sono articolate in due parti diverse, c'è la prima parte che è una sorta di decalogo dei valori civici, etico-morali sui quali si fonda una comunità, uno Stato, una nazione come oggi si dice. La seconda parte invece disciplina le tecniche di funzionamento delle nostre democrazie, le regole del gioco si direbbe. La definizione e le funzioni degli organi dello Stato, la definizione e le funzioni dei poteri dello Stato, e dunque l'esecutivo, il governo, e dunque il legislativo, il Parlamento, e dunque il giudiziario, la magistratura. Poteri e prerogative del governo, del Presidente della Repubblica, della Corte Costituzionale. Il tutto in un quadro coerente, e non per caso la Costituzione ce la teniamo dal 48. Intendiamoci, soprattutto nella seconda parte, modifiche ne sono state fatte, e se ne possono fare. Mi spingerei persino a dire che qualche modifica si deve fare, ma oggi noi siamo in presenza di un'aggressione agli istituti fondamentali della Carta Costituzionale, che rischiano di snaturare la nostra democrazia. Nessuno la racconta in maniera chiara questa vicenda, però voi dovete mettere assieme tre aspetti chiave della strategia di questo governo, che ora stiamo vedendo applicata, annunciata con frequenza crescente. C'è una prima riforma fondamentale, che non per caso Giorgia Meloni definisce la madre di tutte le riforme, che è il cosiddetto premierato, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Come sapete in Italia non esiste elezione diretta, noi siamo una Repubblica parlamentare, nella quale chi vince le elezioni governa, esprime una maggioranza che a sua volta indica al Capo dello Stato un Presidente del Consiglio, il Capo dello Stato insieme a quel Presidente del Consiglio valida e forma la lista dei ministri. Chi ha vinto le elezioni, chi esprime il premier e chi ha una squadra di governo già pronta va in Parlamento a chiedere all'Assemblea dei rappresentanti del popolo la fiducia. Da quel momento in poi in un gioco di pesi e contrappesi il governo deve di volta in volta fare i conti con i cosiddetti organi di garanzia. Il Presidente della Repubblica ha il ruolo fondamentale di autorizzare i disegni di legge del governo, di firmare i decreti legge del governo. In presenza di una crisi di governo può sciogliere le camere, è una sua esclusiva prerogativa e nessun altro può farlo. Nomina il Presidente del Consiglio, nomina i suoi ministri, insomma il Capo dello Stato ha poteri importanti di bilanciamento rispetto a quelli del governo e la stessa cosa fa la Corte Costituzionale. Il governo leggifera insieme al Parlamento, può capitare, è capitato, capita spessissimo che le norme varate dal Parlamento e quelle imposte al Parlamento attraverso i decreti legge abbiano profili di incostituzionalità, cioè banalmente non riflettano quell'insieme di valori che come abbiamo visto fanno parte della prima parte della Costituzione, scusate il gioco di parole. E a quel punto interviene la Corte Costituzionale che è un organo autonomo, è un potere autonomo dello Stato e dice fermati governo, no questa legge non la puoi fare perché sta violando la Costituzione in uno dei suoi valori fondamentali e quindi a quel punto quella legge deve tornare alle Camere, essere modificata o addirittura essere abrogata. Questa è la nostra architettura costituzionale. Bene, il disegno di legge di revisione costituzionale presentato da questo governo e dalla Presidente del Consiglio, che ripeto non per caso lo chiama la madre di tutte le riforme, prevede che il Presidente del Consiglio sia eletto dal popolo e cioè come succede oggi nelle elezioni nelle quali lei chiede agli italiani di votare Giorgia alle prossime elezioni europee, nel momento in cui passasse questa riforma noi andremo a votare per l'elezione del Presidente del Consiglio. E quindi ci sarebbe una scheda dove c'è scritto Giorgia Meloni, sì o no? Magari in concorrenza con qualche altro Presidente del Consiglio candidato. Perché questa norma sovverte l'equilibrio costituzionale del nostro Stato? Perché intanto attribuisce attraverso questa fonte di legittimazione, cioè il voto popolare dei cittadini, un enorme potere al Capo del Governo. Il Presidente della Repubblica, per essere chiari, continuerebbe ad essere eletto e scelto dal Parlamento, non dai cittadini. E già qui voi capite che dismisura che esiste, no? Perché un Presidente del Consiglio, un Capo del Governo, eletto dal Popolo, può rivendicare per sé una base di consenso infinitamente maggiore di quella che ha il Presidente della Repubblica votato dal Parlamento e quindi attraverso una mediazione dei rappresentanti del Popolo. Questo già pone queste due istituzioni su un piano completamente diverso. La bilancia salta perché immediatamente il Capo del Governo è molto più importante ed ha molto più potere, anche agli occhi dell'opinione pubblica, del Capo dello Stato. Considerate che nel mondo, in Occidente e in Europa, nessun Paese ha tra le sue regole del gioco l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, cioè del Capo del Governo. Nessun Paese. Esistono Paesi, come gli Stati Uniti per esempio, o la Francia, è un altro esempio, che eleggono direttamente il Presidente della Repubblica. Ma quella è tutt'altra cosa, sono sistemi completamente diversi. Noi saremmo il primo ed unico Paese in Europa ad avere un Capo del Governo eletto dal Popolo. Il Capo del Governo eletto dal Popolo, nel momento in cui vince l'elezione, attraverso il sostegno della sua maggioranza parlamentare, può scegliere e far votare dal Parlamento il Presidente della Repubblica che più gli fa comodo. Lo decide lui, ha un tale potere, grazie alla sua maggioranza e quindi si vota il suo Presidente della Repubblica. Non solo, attraverso la sua forza personale e istituzionale derivante dal ruolo e dalla sua maggioranza, il Presidente del Consiglio si sceglie i giudici costituzionali. Sono 15 i giudici della Corte Costituzionale, 5 dei quali sono scelti tra esponenti del Parlamento. Essendo padrone del Parlamento, il Capo del Governo sceglie i suoi giudici costituzionali. Voi capite che quindi, già da quello che vi sto dicendo, noi siamo in presenza non più di una democrazia rappresentativa e parlamentare. Siamo dentro una logica di capocrazia, dove il capo che comanda decide, sceglie e fa votare anche gli organi di garanzia che devono controllarlo e quindi saltano tutti quelli che nel gergo del diritto costituzionale si chiamano i check and balance, cioè poteri e contropoteri. Sono equilibri delicati ed è per questo che sarebbe importante nel momento in cui li si va a modificare cercare di rispettare l'equilibrio. Questa riforma non lo rispetta. E non per caso Giorgia Meloni nel momento in cui la lancia e questo sarà, vedrete, il tema forte della sua campagna elettorale, quando andremo a votare per il referendum che dovrà dire sì o no a questa riforma. Lei dice ma volete ancora che a scegliere chi vi governa non siate voi stessi ma siano i partiti? Voi capite il messaggio subdolo che c'è dietro questa affermazione? Intanto si rinnega la democrazia rappresentativa perché i partiti sono esattamente ancorché screditati lo strumento attraverso il quale si esercita la democrazia in questo paese e in tutte le liberal democrazie. I partiti sono fondamentali. Lei è il leader di un partito ma lei dice a voi e a tutti noi ma mica vorrete far scegliere i partiti. Scegliete voi, me o chi per lei perché lei non governerà per i prossimi cent'anni secondo me neanche per i prossimi dieci mesi forse ma vedremo. però questo è il messaggio che passa. Siamo cioè dentro la stessa ondata di populismo che ha squassato non solo l'Italia ma l'Europa e direi persino il mondo da Berlusconi in poi perché il primo che ha fatto questo gesto è stato Berlusconi che aveva lo strapotere che sappiamo e ha detto agli italiani cari italiani io sono l'unto del signore fidatevi di me tutto il resto ci penso io voi non vi preoccupate io metto il mio nome sulla scheda voi votate Silvio Berlusconi io sono forte dei miliardi che ho del mio impero mediatico e voi dovete avere piena fiducia in quello che io faccio gli italiani ce l'hanno avuta perché Berlusconi è arrivato dopo il terremoto di Tangentopoli però quello è stato il virus del populismo che tornava in un paese che se n'era liberato dai tempi del fascismo in poi Berlusconi ha eletto gli italiani ha scusatemi ha illuso gli italiani di contare molto nelle scelte politiche del governo in realtà le scelte le faceva solo lui usava il popolo talvolta anche contro il popolo però è nato tutto da lì Berlusconi è diventato un modello non soltanto in Italia ma anche in Europa anche nel mondo se voi pensate oggi a Trump Trump è Berlusconi è Berlusconi trapiantato in America con la cultura iper liberista che hanno gli americani e con i limiti anche secondo me in parte psichiatrici che ha Donald Trump però sono in fondo figli della stessa logica e anche questa riforma costituzionale del premierato è figlio della stessa logica e non per caso Giorgia Meloni oggi dice per le elezioni europee ma vedrete che lo riproporrà lo schema quando voteremo per questo referendum sul premierato votate Giorgia e lo fa dicendo mi chiamano Borgatara dicono che io sono una pescivendola mi attaccano per questo ma io sono orgogliosa di esserlo perché io sono sempre stata e continuerò ad essere una di voi anche qui vedete che c'è una manipolazione evidente no? Giorgia Meloni è parlamentare da se non ricordo male quattro legislature cioè sta in parlamento da vent'anni quasi e voi sapete che quando sta in parlamento non sei certo un uomo qualunque è stata ministra nel governo Berlusconi oggi è capo del governo quindi non può dire di essere contro le elite visto che ne fa parte però lo dice perché è un messaggio seducente come lo era quello di Berlusconi con una differenza Berlusconi era un miliardario straricco col sole in tasca e diceva agli italiani votate per me perché io vi creerò le condizioni per cui se siete bravi voi un giorno potete diventare come me e gli italiani li hanno creduto ripeto perché venivamo da una devastazione totale come era stata Tangentopoli oggi Meloni fa un discorso analogo non è miliardaria e quindi dice votate per me perché io sono come voi non è che un giorno voi diventerete come me perché io sono già ora e sono sempre stata come siete voi una donna del popolo una borgatara seducente molto seducente però siamo ripeto alla tensione massima della corda tesa del populismo perché poi una volta che governa come capita a quasi tutti quelli che governano il popolo se lo dimenticano e questo avverrebbe tanto più se lei portasse a compimento questa riforma del premierato appunto farsi eleggere direttamente dal popolo e quindi governare in nome del popolo non rendendo più conto al popolo perché sarebbe dentro un circuito totalmente autoreferenziale questo è il primo serio pericolo che corre la nostra costituzione repubblicana ed è la volontà espressa della leader di Fratelli d'Italia c'è un'altra parte del problema che oggi ci deve far aprire gli occhi e le orecchie e far essere sempre più vigili perché Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia vuole il premierato la lega di Matteo Salvini vuole un'altra cosa che si chiama autonomia differenziata il disegno di legge dell'autonomia differenziata che è già stata approvata al senato e ora è approdata alla camera è un altro gigantesco pericolo per la nostra costituzione è una mina accesa sull'unità della nazione italiana perché? ci ha già provato Berlusconi anche in questo nel 2005 come ricorderete anche lui presentò una riforma costituzionale che prevedeva una forma di premierato simile a quello che vuole Giorgia Meloni e in più la cosiddetta devolution che all'epoca era quella cara a Bossi sempre alla Lega che era ancora più estrema di quella di oggi per fortuna in quell'occasione noi italiani andammo a votare per il referendum e gli dicevamo no, questa roba non passa infatti non passò e almeno per quella fase la nostra costituzione fu salva oggi ci riprovano l'autonomia differenziata prevede che ben 23 materie attualmente in capo allo Stato centrale possano essere devolute, uso questo termine mutuandolo dalla devolution di Bossi del 2005 direttamente alle regioni cioè saranno le regioni a decidere su 23 materie tra le quali c'è la salute degli italiani cioè la sanità la scuola l'ambiente i trasporti devo andare avanti perché 23 sono tante ma vi dico solo quelle più importanti ora voi trasferite questa riforma nella fase in cui noi oggi ci troviamo dopo il Covid c'eravamo detti di fronte al disastro della medicina territoriale completamente smembrata attraverso i tagli mai più mai più risorse alla sanità più risorse alla sanità bene nel corso degli ultimi anni di risorse alla sanità ne sono arrivate in percentuale rispetto al prodotto interno lordo cioè alla ricchezza del paese meno di prima del Covid tant'è vero che oggi ciascuno di noi chi è ricco se ne può fregare perché va in clinica e si paga tutto quello che gli serve ma chi non lo è lo vive ogni giorno sulla propria pelle quando deve fare un esame diagnostico aspetta un anno un anno e mezzo quando va nei pronto soccorsi sta quattro giorni sdraiato su una barella nei corridoi insieme ad altrettante persone nella stessa condizione e di questo anche si muore tant'è vero che tutti gli studi ci dicono che ormai ci sono quasi tre milioni di italiani anzi direi quasi quattro milioni di italiani che hanno smesso di curarsi hanno rinunciato alle cure non ce la fanno perché non possono permettersi la sanità privata e perché quella pubblica non li assicura più soprattutto sulla tempistica delle terapie bene immaginate che il disegno di legge di autonomia differenziata trasferisce insisto solo su questo perché è l'aspetto più drammatico la sanità alle regioni vuol dire che le regioni più ricche di questo paese che l'hanno già chiesta l'autonomia differenziata prima ancora che questo governo presentasse il disegno di legge cioè la Lombardia il Veneto e l'Emilia Romagna si faranno la loro sanità sono le tre regioni più ricche del paese hanno risorse in abbondanza e quindi rafforzeranno la loro sanità sia a livello ospedaliero sia a livello territoriale avranno le risorse per farlo perché incassano molte più tasse di quante non ne incassino le regioni centro-meridionali che sono più povere hanno meno ricchezza e quindi contribuiscono meno al sistema sanitario nazionale che è nato così come tutti gli istituti del welfare di questo paese esattamente per questo motivo cioè per garantire a tutti a tutti coloro che non hanno la possibilità economica di farlo di curarsi nelle stesse condizioni tanto è vero che come sappiamo esiste persino il turismo sanitario c'è un sacco di gente che se ne va via dal sud per andarsi a curare al nord perché al sud non ti cura più nessuno bene questo disegno di legge ripeto che è già passato in un ramo del Parlamento e potrebbe passare nel giro di un mese e mezzo due mesi anche nell'altro ramo e dunque diventare legge dello Stato trasferirà dalla sera alla mattina 75 miliardi di risorse pubbliche dalle regioni più povere a quelle più ricche con i risultati che potete immaginare anche solo dal punto di vista della sanità vi basta come spiegazione per temere che gli istituti sui quali abbiamo costruito il principio di eguaglianza che regge la nostra Costituzione siano messi seriamente a repentaglio io penso di sì però lì c'è uno scambio Fratelli d'Italia dice voi mi date il premierato alla Lega e noi vi lasciamo passare l'autonomia differenziata la Lega ci sta perché anche se non ama il premierato porta a casa questo suo feticcio ideologico finalmente le regioni del nord fanno da sole capite che razza di mina è innescata sotto le nostre vite non solo sotto le nostre istituzioni regionali sotto le nostre vite c'è da domandarsi ma com'è possibile perché almeno su questo una tradizione Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni ce l'ha e cioè l'unità nazionale è sempre stato un principio fondamentale non solo del fascismo ma poi del movimento sociale italiano e poi anche di alleanza nazionale e poi anche di Fratelli d'Italia l'unità della nazione Dio, patria e famiglia siete pronti a fare una cosa del genere soltanto perché volete portare a casa il premierato? vedete quando vi dicevo prima il popolo la elegge e lei fa cose che col popolo non hanno nulla a che vedere questa è una di quelle se non siamo vigili se non siamo attenti se non ci mobilitiamo per far capire che non tutto il paese è convinto che questa sia la strada giusta lo faranno e quando l'avranno fatto sarà troppo tardi perché soprattutto sull'autonomia differenziata nel momento in cui vengono delegate agli enti locali le materie di cui vi parlavo ripeto sono 23 e io vi ho parlato solo di quelle più importanti poi sarà impossibile ritornare indietro sarà di una complicazione mostruosa quindi noi rischiamo e non lo dico io guardate lo dice la Banca d'Italia lo dice la Fondazione Gimbe che è un organismo terzo che non ha nessun colore politico che dice che nel momento in cui passa l'autonomia differenziata l'intero sistema sanitario nazionale salta in aria ripeto non lo dico io lo dice un'istituzione terza che fa questo di mestiere studia i problemi della sanità italiana io penso che ce ne sia abbastanza per fermarsi l'ultima parte anzi direi la penultima perché poi aggiungerò anche un aspetto finale c'è un'altra parte del patto a tre perché è un patto a tre fratelli d'Italia lega forza Italia e riguarda la riforma della giustizia è una regge ordinaria anche questa che però ha ricadute costituzionali e potrebbe diventare una legge di revisione costituzionale perché cosa sta pensando il ministro Nordio che in questo si fa interprete di proposte che sono state fatte già ai tempi di Silvio Berlusconi per questo parlavo di Forza Italia che oggi è soprattutto il partito che sostiene questa riforma bisogna separare le carriere dei magistrati tra pubblici ministeri e giudici cioè il pubblico ministero è quello che intenta l'azione penale cioè quello che cerca le prove nel momento in cui è avvertito che esistano certi indizi cerca le prove che confermano o dimostrano la colpevolezza di un individuo il giudice è colui il quale alla fine del processo nel quale il pubblico ministero sosterrà l'accusa e gli avvocati difensori ovviamente la difesa stabilisce chi ha ragione chi ha torto detta proprio in modo molto semplice Forza Italia è convinta che attraverso la divisione delle carriere si riduca in maniera drastica il potere dei pubblici ministeri che sono quelli che da mani pulite in poi hanno svelato un gigantesco sistema di corruzione nel nostro paese e poi di volta in volta hanno creato problemi a Berlusconi e a tutta la sua cerchia di amicizie o di complicità aprendo inchieste e avviando processi come vedete in questi giorni purtroppo la questione morale ancora esiste non ha le dimensioni endemiche che aveva nella prima repubblica ma ancora esiste guardate quello che è successo in Liguria guardate quello che è successo qui in Piemonte guardate quello che è successo in Puglia e questo riguarda anche la sinistra i pubblici ministeri che indagano possono sbagliare sbagliano come tutti gli umani però hanno un ruolo fondamentale perché se li depotenzi molte di queste inchieste non sarebbero neanche mai nate in più un altro principio scritto nella nostra Costituzione che questa riforma della giustizia vuole abolire è la cosiddetta obbligatorietà dell'azione penale la spiego banalmente questo principio stabilisce che appunto il pubblico ministero una procura della Repubblica nel momento in cui viene a conoscenza in qualunque modo che può essere un articolo di giornale un esposto di un cittadino comune di un'ipotesi di reato ha l'obbligo secondo la nostra carta costituzionale di aprire un'inchiesta e cioè di andare a vedere se è vero è un principio chiave del nostro garantismo giuridico anche sì del nostro garantismo giuridico perché è così che si scopre il malaffare con tutte le garanzie del caso gli avvisi di garanzia non devono essere resi pubblici prima che il fascicolo sia chiuso tutto quello che sappiamo però un principio fondamentale bene in questa riforma si vuole eliminare l'obbligatorietà dell'azione penale cioè tu che sei il capo di una procura nel momento in cui io cittadino ti faccio un esposto oppure scopro nel mio lavoro giornalistico che in Puglia in Liguria o in Piemonte o nel Lazio o dovunque volete voi c'è un grosso fenomeno di malaffare io pubblico ministero a quel punto ho facoltà anche di chiudere un occhio e di dire va bene non importa non indaghiamo lasciamola cadere così voi capite il pericolo che c'è in una cosa di questo genere perché insieme a questo c'è anche la modifica di un altro organo di garanzia che è il Consiglio Superiore della Magistratura che è quell'organismo di autogoverno della magistratura perché è fatto da magistrati che deve scegliere e stabilire se e quando qualche magistrato nell'esercizio delle sue funzioni è venuto meno ai suoi doveri alla correttezza professionale o etico-morale bene anche quello verrebbe doppiato con un altro Consiglio Superiore della Magistratura controllato dalla politica che dunque anche dal punto di vista delle nomine perché il Consiglio della Magistratura sovrintende anche alle nomine dei procuratori dei pubblici ministeri e dei giudici dei tribunali delle corti d'appello e della Cassazione finirebbe sotto il controllo politico anche questo fa parte dello scambio premierato autonomia differenziata giudici sotto controllo della politica ultimo aspetto che vi dico che anche questa è una valenza costituzionale anche se non c'è una legge al momento che la minaccia ma ci sono comportamenti riguarda l'informazione oggi è una giornata da questo punto di vista di treggenda per il nostro Paese perché forse come avrete letto ascoltato o visto dopo la vicenda che ha riguardato Antonio Scurati questo bravissimo scrittore che ha avuto solo un torto di scrivere una bellissima trilogia che si intitola M che è una storia romanzata ma non inventata della salita al potere di Mussolini dell'esercizio del suo potere della caduta di Mussolini adesso arriveranno altri due volumi se non la restano prima arriveranno altri due volumi in cui si occuperà anche del dopo la Repubblica Sociale Salò eccetera ha avuto questo torto e quindi è finito nel mirino ovviamente di questo governo perché ha riproposto ancora una volta il tema di cui parlavamo all'inizio cioè fascismo antifascismo possiamo chiudere gli occhi di fronte a pagine nere della nostra storia patria no senza memoria non siamo niente questa è la sua colpa è stato censurato dalla RAI doveva partecipare a un programma Serena Bortone collega giornalista di RAI 3 ha avuto l'ardire o l'ardore di dire me l'hanno tolto dal programma l'avevo inviato non so perché da quel momento in poi è scattato il meccanismo che avrete forse visto e seguito e cioè grande psicodramma interno alla RAI i vertici più o meno sottoposti a processi interni chi è stato chi non è stato perché Meloni che al pomeriggio dopo l'esplosione dello scandalo al mattino dice ma quale censura ma che volete che io censuro ma sono io lo pubblico io il monologo che avrebbe letto Scurati nella trasmissione di Serena Bortone un monologo che aveva anche lui una grave colpa perché raccontava di che cosa è stato il delitto Matteotti oltre che di che cosa è il 25 aprile e Meloni ha pubblicato sui suoi social il monologo di Scurati per far vedere che lei è una sincera democratica peccato che l'ha fatto alle 6 del pomeriggio quando dalle 11 in poi il discorso di Scurati l'avevano pubblicato tutti in Italia cioè era di totale dominio pubblico quindi lei ha fatto un bel gesto ma del tutto inutile aggiungendo però la coda velenosa e cioè peccato che ci siano scrittori intellettuali che si arricchiscono con i soldi dei contribuenti per attaccare il governo perché Scurati all'interno di una prestazione professionale come era quella di partecipare a una trasmissione televisiva con un suo monologo aveva un compenso di 1500 euro teniamo conto che Bruno Vespa ha un contratto da 1.700.000 euro in Rai però i 1500 euro discurati casualmente davano molto fastidio erano un grande spreco per la Rai vabbè chiudo la parentesi Serena Bortone è stata sottoposta a procedimento disciplinare dalla Rai perché ha commesso il grave e madornale errore di far esplodere questo scandalo cioè di dire ce l'avevamo in palinsesto ma la Rai non lo ha voluto mandare in onda e così il re è stato nudo per due settimane e oggi lei paga per questo una Rai nella quale ormai gli spazi di autonomia dei giornalisti sono totalmente azzerati si dirà si dice rispondono e obiettano è sempre stato così non è vero non è sempre stato così perché la Rai è sempre stata lottizzata ed è vero ed è un problema cioè ciascuna delle forze politiche in campo ha avuto un pezzo di informazione a sua disposizione ma ciascuna delle forze politiche in campo questa è la prima volta sull'onda purtroppo di una scellerata riforma che presentò Matteo Renzi col suo governo e che attribuì la scelta dei vertici della Rai non più ai presidenti di Camera e Senato ma al governo è la prima volta che la Rai che la maggioranza in questa fase ha occupato tutta la Rai cioè non c'è più la lottizzazione c'è l'occupazione sono andati via Fabio Fazio Lucia Annunziata Bianca Berlinguer Massimo Gramellini il grandissimo Corrado Augias persino Augias è diventato un pericoloso sovversivo e se ne è dovuto andare dalla Rai e adesso chi altro se ne andrà non lo sappiamo però questa è oggi la situazione della Rai che fa diverso il caso di Tele Meloni per essere chiari dal caso di Tele Renzi o di Tele Berzani o di chiunque altro ci fosse prima perché prima si spartivano l'informazione adesso ce l'ha in mano soltanto il governo se a questo aggiungiamo eccola eh guarda è arrivata al momento giù vieni vieni devi parlare devi dire qualcosa lo so allora Serena non può parlare vieni qua parlo io per te dacci un saluto ma certo ma poi però scusa allora tu sai che io come dico sempre ho il superiore giudicante per cui mi auto ridimensiono perché non esiste nessun peccato maggiore che la Ubris quindi diciamo che sono contenta di vedere tante persone interessate a temi importanti per la nostra Costituzione per il tema fondamentale della nostra Costituzione e auguro a tutti un buon salone e grazie a Massimo grazie a Serena grazie a Serena per essere venuta qui a salutarci però vedete perché è la standing ovation se la merita se la merita che tu voglia o no è andata così tra l'altro voglio anche dire che Serena ha scritto io non l'ho ancora letto mi hanno detto perché sono sincero mi hanno detto tutti che il libro è bellissimo quindi comprate anche il libro di Serena che non parla di Rai non parla di Rai però mi hanno detto tutti che è veramente un bel libro grazie grazie a Serena Bortone la ringrazio di cuore perché a conferma di quello che stavo dicendo continuando questo ragionamento sulla Rai e sull'informazione l'altro corno del problema è che c'è un altro conflitto di interessi sia pure di dimensioni ridotte rispetto a quello di Berlusconi Berlusconi era proprietario delle tre reti private e da capo del governo proprietario della Rai oggi c'è un parlamentare della Repubblica che si chiama Antonio Angelucci della Lega un ex portantino di un ospedale romano che si chiama San Camillo che ha fatto una fortuna con le cliniche ha costruito un impero sanitario e adesso si è comprato un sacco di giornali i giornali della destra sono tutti in mano a lui il giornale libero il tempo e ora si sta per comprare l'agenzia Italia che è la seconda agenzia di stampa del nostro paese dopo Lanza e gliela sta vendendo l'Eni che è il colosso petrolchimico di questo paese controllato dal tesoro e dunque dal governo che casualmente anche qui vende l'agenzia Italia a un parlamentare della destra se noi mettiamo insieme quello che sta succedendo alla Rai quello che è successo a Serena Bortone quello che sta succedendo sulla carta stampata il modo in cui la Presidente del Consiglio reagisce alle critiche di intellettuali e di scrittori Saviano citato davanti a un tribunale soltanto per aver espresso opinioni critiche forti senz'altro ma è un intellettuale è uno scrittore è un uomo singolo dietro di sé non ha niente se non le sue idee a processo chiamato alla condanna da Salvini e da Meloni Canfora avete presente Luciano Canfora uno storico ultraottantenne che già solo a vederlo lo abbracceresti perché è piccolino cammina col suo bastoncino uno dei più importanti storici italiani anche lui querelato dalla Meloni andrà a processo con la Meloni non vi voglio dire come vengono trattati altri intellettuali abbiamo visto scurati che non avevano lo stesso sentiment di questo governo e di questa maggioranza e qui ne voglio ricordare una in particolare che io mi porto nel cuore che si chiama Michela Murgia di cui adesso fate bene ad applaudirla noi abbiamo pubblicato su Repubblica tutta la collana dei suoi libri adesso è uscito il suo libro postumo compratelo leggetelo perché vi spezza il cuore per quanto è bello Michela Murgia è stata sottoposta ad uno squadrismo mediatico e giornalistico quando era viva e quando è morta e ancora oggi Michela Murgia viene sistematicamente offesa e vilipesa da quel mondo politico ed editoriale mettiamo tutto insieme e io vi chiedo e vi dico vi sembra che viviamo in una bella democrazia? io dico di no e quindi mi appello da questo punto di vista e arrivo alla conclusione alle persone come Serena Bortone che però ha un piccolo come ciascuno di noi che facciamo questo mestiere un piccolo spicchietto di potere che infatti con quello che ha fatto l'ha fatto deflagrare il caso ma è il cittadino comune che deve cominciare ad aprire gli occhi e deve cominciare ad uscire da questa ignavia nella quale ci vogliono far precipitare e dobbiamo vigilare sulla nostra democrazia perché la democrazia non è una cosa che acquistiamo e abbiamo acquisito una volta per tutte cito di nuovo Michela Murgia non pensiate che il fascismo venga a bussare alla porta di casa vostra col fezzi in testa non è questo il punto nessuno crede che ci siano le camicie nere in marcia verso Roma nessuno pensa che si reintroduca il regime e la dittatura del ventennio in Italia non è questo uscì qualche anno fa un libro bellissimo che si intitolava due politologi americani come muoiono le democrazie oggi le democrazie non muoiono con i colpi di Stato è molto più subdolo il meccanismo sono regressioni democratiche scivolamenti progressivi guardate quello che succede in America con Trump e speriamo che non risucceda se vince guardate quello che sta succedendo in Ungheria in Polonia dove la Costituzione come rischia di succedere qui è stata cambiata da chi governa Orban in particolare proprio su quei punti che vi dicevo il potere della magistratura il potere della libera informazione hanno cambiato la Costituzione per dire che chiunque scrive una cosa che viola l'unità nazionale rischia e va in galera questo c'è scritto nella Costituzione ungherese questo ha voluto scriverci Orban non ha scritto da domani io sono il dittatore e quindi ho potere di vita o di morte su tutti no questo non lo fanno più ma fanno questi interventi queste piccole manipolazioni questi lavalgi del cervello delle nostre coscienze manipolate attraverso l'informazione ripeto soprattutto quella del servizio pubblico radio televisivo e allora che cosa è importante è importante così come ha fatto Serena Bortone che ciascuno di noi nel proprio ambito nella propria sfera di competenza esistenziale direi o sociale se crede che questo sia un pericolo che dica no perché guardate che è la somma dei no individuali che poi producono una reazione del corpo sociale quindi una quota piccola media grande di coraggio è richiesta a ciascuno di noi oggi tutto quello che non si può accettare è l'indifferenza diceva bene Gramsci odio gli indifferenti e aveva ragione ma noi abbiamo alle spalle troppi anni di indifferenza e non cadiamo nella trappola di chi dice ah voi pensate al fascismo no non è questo noi pensiamo io penso e credo che molti di noi pensino che quello che c'è in gioco è la qualità della nostra democrazia che non diventerà dittatura ma magari diventerà una cosa diversa diventerà capocrazia diventerà autocrazia elettiva nel senso che voi votate e vi scegliete il vostro carnefice sì magari questo ma già non è più democrazia è stato coniato qualche anno fa una formula la democratura che è un mix tra la democrazia e la dittatura è la russia per intenderci o è la turchia per intenderci dove i cittadini votano convinti che hanno scelto loro e poi sappiamo come vanno le cose non hanno scelto un bel niente e l'autocrate fa quel che vuole manda Navalny in Siberia e lo lascia morire in galera oppure avvelena con il novichok tutti i dissidenti sparsi per il mondo attraverso i servizi segreti così muoiono le democrazie non con le camicie nere che marciano per le strade della capitale e allora e concludo il gruppo 25 aprile che è nato in maniera del tutto preterintenzionale da parte mia il colpevole sono io la mattina del giorno della festa della liberazione con la piccola agendina che ho nel mio cellulare ho pensato di fare gli auguri di buona festa della liberazione citando una frase di Sandro Pertini a tutte le persone alle quali voglio bene mi sono vicine sento di avere una comunanza di idee e di valori generalmente lo faccio con gli auguri lo stesso tipo di messaggio ma auguri singoli inviati ad una community ciascuno dei quali non sa che l'ha ricevuto anche l'altro in quel caso facciamolo come gruppo così lo condividiamo io avevo messo nella mia agendina un centinaio di persone e la sera erano già diventate 980 la mattina dopo erano già arrivate a 1024 io non sapevo perché sono un asino digitale che Whatsapp blocca i gruppi fino a quota 1024 cioè non si può essere più di 1024 nei gruppi Whatsapp noi siamo arrivati a 1024 la mattina dopo che io avevo mandato questo messaggio e da quel momento in poi una gran quantità di messaggi di persone che mi dicevano ma questo vuole entrare io ho 12 amici io ce ne ho 100 io ce ne ho 25 come facciamo e allora è venuto in mente di trasferire gradualmente altra cosa di cui sono totalmente neofita quel gruppo Whatsapp su un gruppo chiuso Facebook aprendo anche una pagina Facebook che si chiama è sempre 25 aprile perché Facebook perché in quel modo con un gruppo chiuso noi riusciamo a se vogliamo prendere 100.000 persone scherzo ovviamente però non abbiamo limiti numerici però la differenza è che lì gli amministratori del gruppo tra i quali umilmente ci sono anch'io autorizzano l'accesso perché qual è il problema di una chat del genere che c'entrano tutti la cosa che a me sta a cuore di questa iniziativa che non so non so dove andrà non so che cosa so due sole cose so la prima è che non sarà un partito politico e non vuole esserlo non abbiamo nessuna intenzione di fare politica in prima persona e la seconda cosa è che io personalmente non ho nulla a che spartire con la politica in quanto missione individuale però quello che mi interessa è mi interesserebbe non disperdere questo seme di civismo che intorno ripeto a questi valori soltanto questi la nostra costituzione la liberazione dal fascismo e dunque tutti i valori che ne conseguono in questo momento minacciati da quelle quattro mine innescate di cui vi ho parlato ecco nella misura in cui noi sapremo far vivere allargandola se possibile sempre di più ed è la ragione per la quale un'iniziativa così non la facciamo su Repubblica perché avremmo anche qui c'è il nostro direttore generale che io ringrazio sempre di tutto ma potevamo anche concepirla su Repubblica ma l'idea è quella di farle una cosa più ampia e più trasversale di una testata di giornale che pure senza la quale io ve lo voglio ricordare un'altra volta in questo paese se non ci fosse stata Repubblica e lo dico anche a quelli che oggi contestano questo giornale sia in politica sia fuori dalla politica la storia del paese non sarebbe stata questa non sarebbe stata questa e non lo dico soltanto riferendomi alla stagione in cui c'era Scalfari Scalfari ha lasciato il giornale nel 96 Repubblica è stata un vettore di cambiamento culturale prima di tutto di questo paese formidabile formidabile non gli sarà mai reso il merito che serve a Scalfari ma è questo ma nel ventennio berlusconiano a chi oggi ride Repubblica per l'anti-berlusconismo io vorrei vedere che cosa sarebbe stata l'Italia senza questo giornale senza questo giornale che ha avuto il coraggio la forza di dire no questo no attraverso quello che scrivevamo sul giornale ogni giorno e anche iniziative pubbliche che abbiamo fatto ci ricordiamo tutti l'iniziativa dei post-it contro un'altra legge Bavaglio io c'ero eravamo in piazza erano 150.000 persone 150.000 persone e allora chi oggi dice ma non avete capito niente ancora con l'anti-berlusconismo ricordiamogli questo cosa sarebbe l'Italia se non ci fosse stato quell'argine mentre gli altri scherzavano il foglio Giuliano Ferrara ci prendeva in giro tutta la grande banalizzazione che continua e va avanti anche oggi per questo io ci tengo a questo gruppo ripeto senza nessuna velleità politica ma solo per far vivere quel seme di civismo del quale credo che oggi ci sia un grandissimo bisogno grazie grazie a tutti grazie 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 grazie